one podcast cara e le casi siamo tornate sì e per aprire questa puntata di buono sapersi ho scelto una citazione che sicuramente conoscere anche tu colazione da re pranzo da principe cena da povero me la diceva mia nonna grazie mi fa sempre piacere essere paragonata a tua nonna comunque per farti capire io ogni tanto vado a letto pensando già a quanto sarà bello far colazione ma sei in buona compagnia anche io allora parleremo del mio pasto preferito questo te lo dico è il pasto a cui io proprio non posso rinunciare ma anche del pasto al quale sono legate le più strane diciamo mode alimentari e quindi ci risiamo Elena aiuto il mondo dell'alimentazione è una vera e propria giungla diete con copyright superfood regimi alimentari per vivere cent'anni beh è il momento di fare un po' di chiarezza io sono Elena Casiraghi esperta in nutrizione io sono Alessandra Patitucci sportiva della domenica e questo è Buono Sapersi guida consapevole ma soprattutto semplice per un sano stile di vita nuova puntata e nuove curiosità dai siti non scientifici che tuo malgrado io continuo a leggere non ci possiamo fare niente citavo le mode legate alla colazione prima e le più diffuse sono ti faccio un mini elenco allora acqua calda e limone appena svegli per dimagrire ci sta poi magari ne parliamo nel senso che è tra le più diffuse tra i più diffusi falsimiti poi un cucchiaio di olio appena svegli per l'intestino pigro ne abbiamo parlato di J3 Nincenzo esatto poi latte vegetale è migliore di quello vaccino ah tante cose da raccontarmi ok saltare la colazione per dimagrire e la colazione salata è più salutare di quella dolce ne parleremo ok nella speranza che in questa puntata tu possa sfatare o confermare alcune di queste teorie è arrivato il momento della nostra infarinatura sul tema della puntata di oggi colazione dal latino collazio colazionis che significa raccolta propriamente il mettere insieme era il pasto comune che i monaci consumavano dopo la riunione della sera le prime notizie sulla colazione come le intendiamo oggi si trovano nell'odissea nel libro sedicesimo del poema di Omero il pasto di Ulisse di primo mattino era costituito davanti di maiale della sera prima accompagnati da pane, vino e miele Ulisse manca la verdura l'idea molto diffusa che la colazione sia il pasto più importante della giornata appare per la prima volta all'inizio del ventesimo secolo in un articolo scritto dalla dietista Lena F. Cooper sulla rivista Good Health il 3% degli italiani fa colazione con salumi e formaggi mentre il 55% preferisce biscotti pensando che una colazione dolce sia la formula energeticamente più vantaggiosa ma è davvero così? eccoci qua, allora partiamo subito con la domanda più classica la colazione è davvero il pasto più importante della giornata? allora Ale, pensa che Lena F. Cooper una pioniera della nutrizione che è vissuta tra l'800 e il 900 quindi più di 100 anni fa scriveva la colazione è il pasto più importante della giornata e continua così, senti qua non dovrebbe essere consumata in fretta e tutta la famiglia dovrebbe partecipare e soprattutto deve essere composta da cibo facile da digerire ed equilibrato considera che il giornale in cui l'N.F. Cooper scrive queste parole non è banale si chiama Good Health ed è di proprietà di John Hervie Kellogg che è anche l'editore ma Kellogg, Kellogg, quello che penso io? esattamente ah, vedi proprio lui, quello dei cornflakes questa idea dei cereali per la colazione diciamo così, tra virgolette non viene in realtà dal nulla secondo Alain Drouard storico e sociologo dell'alimentazione nasce con un cambiamento di abitudini alimentari a cavallo del ventesimo secolo proprio mentre i paesi occidentali sono in piena rivoluzione industriale è proprio in questo momento che nasce il concetto della colazione come lo concepiamo noi ora ok, perché vuoi dirmi che prima la colazione era diversa quindi? prima di questo periodo nelle zone contadine le persone consumavano la colazione per rompere il digiuno notturno infatti noi tendiamo a tradurre la parola breakfast con pausa veloce in realtà no breakfast significa spezza digiuno quindi rompi digiuno però non era composta la colazione di questi contadini come la intendiamo noi oggi comunemente al mattino infatti veniva consumato quello che era rimasto nella dispensa oppure gli avanzi della cena del giorno prima ah, vedi nel frattempo in Europa sempre più persone stavano lasciando la campagna per trasferirsi in città a svolgere insomma mansioni più sedentari rispetto al lavoro rurale ad esempio in fabbrica oppure negli uffici e molti lavoratori iniziano così a lamentarsi della difficoltà di digestione a tal punto che i medici cominciarono ad occuparsi di questo problema e quindi a raccomandare una colazione facile da digerire basata sul grano ok, qui immagino si è entrato in gioco il signor Kellogg sì sì, fu proprio in questo contesto che nel 1898 il dottor Kellogg inventò i cornflakes ovvero quei petali fatti a partire dal mais concepiti come un modo per facilitare la digestione del pasto del mattino e suo fratello Will Cade Kellogg vide il potenziale commerciale nei cornflakes cioè nei fiocchi di mais e nel 1907 decise di commercializzarli per il grande pubblico così nacque il consumo di quelli che noi oggi comunemente chiamiamo i cereali del mattino ok, io sto per farti una domanda che sono sicura mi farà soffrire perché a me piacciono insomma per la colazione quindi i cereali classici che troviamo in tutti i supermercati sono davvero l'ingrediente ideale per una sana colazione? allora se con cereali del mattino intendi appunto i cornflakes sono loro parenti no, non lo sono purtroppo e il motivo principale è questo è che alzano la glicemia con molta rapidità infatti ti voglio raccontare meglio Ale ci sono alimenti che fanno alzare velocemente la concentrazione di zucchero nel sangue appunto la glicemia e tra questi ci sono i cereali che consumiamo abitualmente al mattino ma questo evento in realtà viene stimolato anche da altri alimenti come ad esempio le brioche o più semplicemente dalla spremuta d'arancia un alimento che in realtà nel cliché comune nella nostra credenza è considerato sano mi stai uccidendo anche la spremuta d'arancia quindi è una tragedia eh sì esatto a questo picco di zuccheri nel sangue segue sempre l'arrivo di un ormone l'insulina che già nella puntata tutto sugli zuccheri abbiamo imparato a conoscere come l'ormone dell'immagazzinamento che ha il compito di ristabilire i valori base di glicemia il fatto è che più si innalzano rapidamente le concentrazioni di zucchero nel sangue più il nostro pancreas produce insulina da cui avremo un abbassamento repentino della glicemia nel giro di poco tempo dopo la colazione un fatto che a livello di percepito diciamo così comporta quella sensazione non so se è presente di vuota allo stomaco e successivamente di fame che diventa appunto sempre più nervosa e in queste situazioni noi non pensiamo ad altro che soddisfare questo tipo di fame nervosa ok intanto ricordiamo che se chi ci sta ascoltando vuole recuperare la puntata sullo zucchero la trova è sempre in tempo esatto quindi stavi dicendo che i cereali per la colazione provocano un picco di zuccheri e poi un abbassamento repentino della glicemia con conseguente fame quasi immediata è corretto? hai capito bene quindi quello che accade è che circa un'ora un'ora e mezza dopo la nostra colazione quando ci assale questa fame si riduce la nostra capacità di concentrarci e più in generale anche se ci fai caso la nostra efficienza mentale infatti siamo meno concentrati più distratti con quell'unico pensiero di andare a cercare altro cibo nel lungo periodo però se ogni giorno attiviamo questo circolo vizioso innanzitutto ingrasseremo più facilmente oppure al contrario se tendiamo a perdere peso continueremo a essere sotto peso quindi insomma nessuno è contento però non è tutto perché nel lungo periodo ci sentiremo appunto stanchi quindi questa stanchezza cronica svogliati tenderemo a perdere più facilmente tono muscolare andremo più semplicemente incontro a una riduzione dell'umore e dunque ad apatia tristezza stress ansia e anche la nostra efficienza immunitaria tenderà a ridursi col risultato ovviamente sempre sepenficando che avremo maggior difficoltà anche a risolvere eventuali infezioni a cui ogni giorno possiamo andare incontro allora mi stai spaventando ma tanto quindi per capire meglio questo circolo vizioso vale solo per i cereali o per la colazione dolce in generale allora questo è un loop che si attiva anche quando beviamo la spremuta di arancia come ti dicevo un attimo fa un alimento appunto che nel nostro immaginario ha a che fare con una colazione sana ce la dipingono anzi ce la fotografano proprio così ma non è esattamente così a meno che ovviamente non venga preparata con agrumi che hanno una più bassa concentrazione di zuccheri come ad esempio il pompelmo con permorosa e il limone ma va da sé ovviamente senza zuccherarla perché a questo punto ci appare più amara e affiancata al tempo stesso da alimenti fonte di proteine così già possiamo modificare lievemente il suo effetto negativo sulla glicemia oppure quando tanto per darti un altro esempio mangiamo il classico cappuccino a brioche un momento di puro godimento me ne rendo conto quindi ecco se amate fare colazione al bar magari come primo passo per migliorare potete provare a sostituire la classica brioche con la marmellata prima con una brioche salata con ad esempio dell'affettato magro e poi eventualmente con un tosto ovviamente sempre accompagnato dal vostro cappuccino ma attenzione senza dolcificarlo con lo zucchero allora sei partita allora sei partita con un po' di esempi pratici che sono poi la parte mia preferita secondo me anche di chi ci ascolta e partiamo dall'inizio come deve essere composta una buona colazione intanto bisognerebbe tornare un po' alle origini cioè prendersi del tempo per fare colazione è qui che insomma è in poi inizio la nostra giornata e anche la sua qualità è lì che ritroviamo il nostro nome come ci chiamiamo che cosa dobbiamo fare da che parte siamo girati no vabbè stiamo scherzando però in realtà dovremmo comunque inserire anche tutti i nutrienti quindi non solo carboidrati ricchi in zuccheri come abbiamo visto in queste colazioni ma anche proteine di alta qualità e grassi buoni e quindi in questa maniera più bilanciata renderla anche digeribile cioè che non ci dia quella sensazione di pesantezza nelle ore successive bensì di sazietà ok i carboidrati si digeriscono abbastanza facilmente quindi ovviamente no problem invece è particolarmente importante la scelta dei grassi che devono essere quelli buoni come ad esempio le noci o le mandorle o l'olio extravergine di oliva o anche l'avocado grassi da evitare sono invece quelli che ci appesantiscono e che appesantiscono anche le funzioni dell'organismo come appunto i grassi trans che si trovano spesso negli alimenti di origine industriale per la colazione tipo i prodotti da forno già pronti come le brioche è presente quelle nel sacchetto c'è una nostra amica che le mangia tutte la mattina non ti dirò chi è ma anche le classiche merendine oppure i muffin o alcuni pancake già pronti quindi leggiamo sempre le etichette pensa che questi grassi sono così dannosi quindi parlo dei grassi trans che l'organizzazione mondiale della sanità l'OMS vorrebbe eliminarli per abbattere un po' il numero così ha dichiarato di decessi dovute a malattie cardiovascolari ok inserire i grassi buoni segnato altra domanda sul totale delle calorie giornaliere però a colazione quanto dobbiamo assumere? allora dalla colazione dovrebbero derivare circa il 20% delle calorie totali della giornata da qui si capisce proprio che la colazione è un pasto strategico perché ci fornisce la giusta sazietà ma anche l'energia e anche in questo caso quella giusta ok quindi tornando però alla tavola della colazione carboidrati a posto grassi buoni mancano le proteine esattamente insomma a me hai imparato anche tu che sono un nutriente essenziale e non mi stanchero mai di dirlo perché una colazione con l'adeguato apporto di proteine ci permette innanzitutto di essere più sazi nell'immediato e anche nelle ore che seguono la colazione e di spalmare meglio il nostro fabbisogno quotidiano di proteine sulla giornata e non ultimo perché non è finita qui di ricercare meno cibi di zuccherini nei passi successivi ok viva le proteine oramai sono innamorata delle proteine e ovviamente anche su questo argomento abbiamo fatto una puntata quindi potete andare a recuperarla però voglio ricordare che noi incentriamo ricordiamo l'importanza delle proteine ma non vuol dire che siano più importanti dei carboidrati o dei grassi è semplicemente che spesso ce le dimentichiamo e dunque il nostro promemoria deriva proprio da questo motivo va bene a proposito di proteine quanti grammi dobbiamo assumerne a colazione di questo argomento ne ho parlato col biologo nutrizionista Massimo Rapetti la cui mission di vita secondo me è proprio educare alla colazione bilanciata le persone però una colazione bilanciata ma anche gustosa Massimo Rapetti mi ha confermato i valori che adesso ti voglio raccontare partiamo dalle donne allora se una donna sportiva ogni giorno deve assumere un minimo consideriamo pari a 60 grammi di proteine quindi solo a colazione dovrebbe rimanere appena intorno ai 10 grammi anzi meglio 14-15 detto fra noi ok quindi esempi fammi degli esempi subito subito esempi per me che sono una sportiva e sono una donna sana eccoci qua vai allora sarebbero ad esempio 40-60 grammi di affettato magro che possiamo considerare come magro e di buona qualità il prosciutto crudo la bresaola il prosciutto cotto di alta qualità però oppure il quantitativo presente in 400 grammi di yogurt bianco o ancora in 200 grammi di yogurt di tipo greco ok questo per la donna e per l'uomo invece l'uomo invece dovrebbe garantirsi a seconda ovviamente dello stile di vita e anche dell'età almeno 15 grammi meglio se 20 quindi 20 grammi di proteine nella prima colazione che in cibo so che a te piacciono gli esempi pratici giustamente sono circa 60-90 grammi di affettato magro oppure ad esempio se prendiamo un altro alimento abbastanza utilizzato l'albume d'uovo sono poco più di 100 grammi di albume d'uovo cioè il bianco dell'uovo contenuto in due uova grandi oppure tre piccole se facciamo riferimento non tanto al peso dell'albume quanto in quello che troviamo appunto nelle uova fresche oppure parlando sempre di uova considera due intere considerando appunto che un uovo in media contiene circa 13 grammi di proteine tra il bianco e il rosso ok ho una soluzione anche in più e per le persone invece che fanno fatica a introdurre le proteine a colazione ci sono tante soluzioni pensa ad esempio a quei frollini bilanciati con delle farine ricche in proteine ad esempio a partire dai cereali legumi insieme oppure considera anche le proteine in polvere che potrebbero fare ad esempio al caso loro per me almeno sono molto comode certo il motivo l'abbiamo un po' spiegato nella puntata sui prodotti proteici che anche io vi invito magari a andare a recuperare se non l'avete sentita in breve possono essere un pratico strumento per raggiungere l'adeguato apporto di proteine in mancanza d'altro oppure per evitare importanti volume di cibo come abbiamo già raccontato ok partendo sempre dal mio di caso ovviamente perché ci sono qui io mi spiace per chi sta ascoltando io quindi per ogni colazione devo assumere indicativamente 15 grammi di proteine e invece quanti grammi di carboidrati visto che non ne abbiamo ancora parlato e sono fondamentali per me lo sai allora sempre parlando appunto con il dialogo nutrizionista Massimo Rapetti anche lui mi ha confermato che non si sbaglia se andiamo da un minimo di 20 grammi per la donna e 30 grammi circa per l'uomo e il massimo invece non c'è sarebbe un po' da personalizzare a seconda delle esigenze personali ciò che conta è la qualità degli alimenti che ci forniscono carboidrati infatti devono essere quelli con meno zuccheri liberi sarebbe come a dire per l'allenamento il minimo è questo perché sia efficace il massimo non esiste per l'allenamento quindi l'elemento su cui far chiarezza riguardo questo macronutriente cioè carboidrati è più incentrata sulla fonte come dicevo un attimo fa cioè sulla qualità dell'alimento che noi scegliamo come abbiamo detto appunto nella puntata dedicata agli zuccheri dobbiamo cercare di ridurre al minimo gli zuccheri aggiunti e preferire fonti integrali quando possibile mi spiego meglio il primo impegno deve essere quello di evitare di aggiungere saccarosio cioè il comune zucchero bianco a cucchiaini questo però non è solo nei nostri cucchiaini o nelle bustine ma si nasconde anche tra gli ingredienti già pronti della grande distribuzione come dicevamo prima cioè in merendine muffin ma anche il musli arricchito di zucchero che in realtà pensiamo sia un alimento salutare dobbiamo progressivamente abituarci a un gusto meno dolce senza ovviamente rinunciare al piacere della colazione dolce se ci piace e ai carboidrati perché comunque inseriti in un contesto di colazione anch'essi sono importanti ok quindi dovendoci abituare ad una colazione meno dolce purtroppo degli esempi pratici e veloci allora esempi pratici possiamo garantirceli attraverso sempre come fonte di carboidrati del pane integrale e un consiglio meglio se lo tostiamo perché risulta più digeribile oppure i fiocchi di avena al naturale o anche la quinoa soffiata o ancora il grano saraceno solo per citarti alcune fonti che hanno un più basso impatto glicemico poi ovviamente dipende anche da quanti ne mangiamo oppure ancora un musli composto in casa nel senso io mi diverto molto in casa a comporre i miei musli partendo da un bel barattolone di vetro e poi lo preparo ad esempio unendo dei fiocchi di avena naturale la quinoa soffiata delle gocce di cioccolato fondente poi a seconda di quello che insomma gira un po' in cucina possono essere delle mandorle oppure della granella di nocciole o di noci la prossima volta me lo porti assolutamente ma come facciamo a capire se sto facendo dei progressi bilanciando bene la colazione allora un'indicazione molto semplice e pratica è quello di monitorare il nostro senso di sazietà perché una buona colazione senti qua dovrebbe dare sazietà per almeno tre ore ok quindi diciamo io la faccio alle sette di mattina fino alle dieci dieci e mezza dovrei essere tranquilla esattamente quindi se dopo un'ora dalla colazione quindi abbiamo fatto colazione alle sette come nel tuo caso alle otto otto e mezza ho già fame significa che per noi quello non è stato un pasto bilanciato in questi casi si dovrebbero abbassare i carboidrati a favore delle proteine e dei grassi buoni che hanno come abbiamo già detto un potere saziante maggiore e anche una capacità di stabilizzare meglio la glicemia ok ma quindi lo spuntino a metà mattina sì o no dipende un po' dagli orari perché se ci si sveglia presto conviene un po' spezzare la mattinata con uno spuntino ovviamente anche qui mi raccomando bilanciato l'obiettivo è di essere quello di mantenere la glicemia il più costante possibile quindi di evitare grossi up and down ok io però ora Ele voglio da te delle ricette cioè un bel elenco di alternative che io poi appenderò sul frigorifero così le mie colazioni sono a posto direi di partire da quelle dolci ok perfetto allora alternative di colazioni dolci possono essere questo è stato un mio must per tanto tempo ok vai pancake con albume d'uovo sì farina d'avena meglio ancora se integrale qui se vogliamo essere ancora più precisi e un pizzico di lievito per dolci metti tutto in una scodella sbatti con una forchettina e poi la metti in un padellino magari già leggermente riscaldato antiaderente una volta che nel piatto lo puoi farcire con della marmellata senza zuccheri aggiunti oppure dei frutti di bosco insomma scegli un po' tu ok e questa è la prima poi esatto un'altra colazione molto semplice qui già a prova di poca voglia al mattino poco tempo e poca voglia esatto un po' di pigrizia ci sta può essere del pan integrale tostato con spalmata marmellata senza zuccheri aggiunti o comunque al naturale e sopra dello yogurt greco oppure anche della ricotta che a me piace molto vaccina o se preferite un formaggio spalmabile ricco in proteine questo sta un po' a gusti dunque ma il pane integrale con sopra lo yogurt greco buono male prova non l'ho mai provato questa è nuova proverò prossima invece ricetta allora un'altra ricetta che mi viene in mente è fresca quindi magari è utile soprattutto d'estate quando ci svegliamo al mattino e appunto vogliamo qualcosa di più fresco quindi un esempio potrebbe essere dello yogurt bianco oppure dello yogurt greco con un frutto fresco e dei cereali integrali ovviamente i cereali cui facevo riferimento prima quindi ad esempio i fiocchi di avena integrali oppure della quinoa soffiata insomma ce ne sono davvero tanti ok per chi va di fretta invece ci sono i frollini ad esempio di cui parlavamo già prima che hanno un mix di farine di origine vegetale che ci possono permettere un adeguato apporto di proteine quindi in un solo gesto facciamo un po' una colazione completa ok e un'idea invece per chi è vegano un'idea vegana invece potrebbe essere anche questa è una cosa che mi piace molto da quando l'ho scoperta guarda ogni volta che compro questa crema che adesso ti dirò insomma non ne posso fare a me ne avevi già parlato devo segnarla quando vado a fare la spesa vai sì ne ho parlato un po' nel mio libro i super alimenti ad esempio una fetta di pane integrale tostato con crema tahini che non è altro che una pasta di semi di sesamo frullati ovviamente se non siete allergici al sesamo sarò a sandir esatto e marmellata senza zuccheri aggiunti oppure pane con crema di anacardi oppure di mandorle ovviamente anche in questo caso senza lo zucchero aggiunto e sopra della marmellata buonissimi sì entrambe le colazioni ovviamente possiamo accompagnarle con una bevanda fredda o calda come preferiamo come ad esempio del caffè del tè una bevanda d'orzo oppure di avena o di soia ok ma a proposito di scelta un alimento tipico insomma della colazione italiana sicuramente che fa discutere molto è il latte vaccino sì come ti poni nei confronti del latte entriamo in un'area molto delicata cercherò di super discussa di camminare un po' in punta di piedi allora partiamo da un punto fermo una cosa che non possiamo negare il latte prodotto dai mammiferi compresi gli esseri umani è specie specifico cosa vuol dire che contiene le sostanze di cui è ricco nella concentrazione adeguata per il nutrimento di quel cucciolo a cui appartiene quel tipo di latte fino al cosiddetto svezzamento anche se la parola svezzamento non è proprio una parola corretta ma almeno capiamo tutti di quale momento della vita del cucciolo appunto sto parlando quindi quello vaccino è adeguato per far crescere ad esempio i vitelli pertanto bere quotidianamente in età adulta il latte di altri animali non sembra sempre essere in linea con la nostra natura biologica utilizzo comunque un condizionale ok quindi è per questo che molte persone non lo digeriscono esatto e per essere più specifici il motivo è questo più cresciamo quindi più in realtà noi ci allontaniamo da questa fase dello svezzamento in cui abbiamo iniziato a inserire anche altri alimenti più ovviamente tendiamo a ridurre la sintesi di un enzima che si chiama lattasi che è quell'enzima che ha il compito di digerire il lattosio cioè lo zucchero naturalmente presente nel latte proprio perché dopo l'introduzione degli alimenti intorno al sesto mese di vita circa il latte non è più l'unico nutrimento e per questo alcune persone tendono in età adulta a torrerarlo meno l'altro fatto che dobbiamo considerare è che il latte vaccino sembrerebbe risultare un alimento pro-infiammatorio a causa delle proteine caseine che sono presenti nel latte che a lungo andare possono un po' alterare la barriera intestinale il motivo non sembra essere tanto legato a questo tipo di proteine in sé quanto alla loro lavorazione poi a livello industriale si tratta di un fatto abbastanza assodato per la comunità scientifica però ancora in via comunque di studio quindi che cosa dobbiamo fare ora vi starete sostanzialmente chiedendo il suggerimento è quello di assumerlo o in piccole quantità oppure più occasionalmente cioè non quotidianamente d'abitudine o in alternativa sostituirlo ad esempio con il latte di capra se vi piace ha un sapore sicuramente più forte ma sembra essere più vicino a noi ok e invece quelli di origine vegetale possono essere un'alternativa tipo il latte di soia cioè quello di mandorla il latte di riso il latte d'avena possono senza dubbio esserlo ma dobbiamo considerare alcuni aspetti quando andiamo a scegliere orca miseria io adesso lo so perché sai che per un periodo questo è al solito un mio esempio ero convinta che tutte le risposte fossero nel latte d'avena credo non sarà così ma secondo me tu sei la portavoce dei nostri ascoltatori vai allora il primo aspetto da considerare è la presenza di zuccheri aggiunti infatti in alcune di queste bevande vengono aggiunti degli zuccheri per renderle più palatabili poiché il loro gusto in natura non sempre è così ottimo comunque piacevole e poiché non tutte sono fonti di proteine ad esempio una bevanda di riso ha una concentrazione di proteine prossima allo zero per ogni 100 ml se non ricordo male le bevande di riso quelle che noi chiamiamo comunemente il latte di riso ha una quantità di proteine una concentrazione di proteine pari o comunque prossima a 0,3 grammi ogni 100 ml quindi nulla già qualcosina di più troviamo nel latte di avena e ancora qualcosina ulteriore nel latte di mandorla però non possiamo comunque considerarle fonti di proteine sostituibili al latte l'unica bevanda di origine vegetale che possiamo considerare dal punto di vista delle proteine come alternativa al latte di mucca è quello di soia anche qui in realtà però Ale potremmo fare una puntata solo sulla soia perché ad oggi è un ingrediente la nostra alimentazione è abbastanza discusso esatto allora argomento latte andato quindi ottimo abbiamo parlato però fino ad ora di alternative dolci per la colazione direi di passare al salato subito servite quelle salate vai come sempre le prime che mi vengono in mente ce ne sono diverse allora ovviamente il tosta all'italiana con prosciutto e fontina è un buon compromesso è facile in genere piace a tutti se ovviamente vi piace il salato oppure pane integrale con un cucchiaio un cucchiaino di olio extravergine di oliva e prosciutto crudo oppure salmone affumicato in questo caso preferibilmente pescato e non allevato o ancora se vi piace la versione pancake possiamo farla anche salata quindi con del salmone affumicato oppure del prosciutto cotto di alta qualità o lascia a voi comunque la fonte di proteine buone allora abbiamo parlato fino adesso di come fare la colazione in maniera ottimale ma non abbiamo parlato invece di chi la colazione la salta perché sono tantissime le persone che la saltano cosa mi dice riguardo? l'errore più grosso tra chi non fa colazione non è tanto saltarla in sé quanto invece prendere un caffè e basta ecco Elena possiamo anticipare che non abbiamo ancora parlato di caffè perché faremo una puntata dedicata esatto abbiamo deciso di dedicare una puntata intera proprio al caffè e alla caffeina continuiamo a parlare di chi non fa colazione a questo punto piuttosto che prendere un solo caffè stomaco vuoto è meglio saltarla del tutto proprio perché lo racconteremo la caffeina agisce comunque in qualche modo sul metabolismo degli zuccheri anche quando il caffè noi l'abbiamo preso senza aggiungerci la classica bustina o cucchiaino di zucchero sono disperata mi sa in tanti detto questo una colazione imposta a una vita breve l'importante quindi è ascoltare il proprio organismo la cosa fondamentale in ogni caso anche se non vi va di far colazione è bere acqua e reidratarci perché comunque vi ricordo che arriviamo dal digiuno notturno e quindi la notte ha comportato una carenza di idratazione una regola in realtà quella della reidratazione nella colazione che vale per tutti ok certo quello mai dimenticarsi l'acqua l'acqua oppure tisane ad esempio comunque un tè già facendo colazione noi ci reidratiamo ma se saltiamo la colazione magari perdiamo questa opportunità ok una domanda ma cosa ne pensi di chi cena come se fosse una colazione cioè mi spiego è capitato immagino anche a te dai qualche volta latte biscotti oppure yogurt e cereali la sera perché o non hai tempo hai fatto tardi semplicemente perché avevi voglia di un po' di comfort food ecco sì sai che appunto confesso confesso a volte seppur raramente succede anche a me magari mi capita quando sono fuori casa a fare una serata di divulgazione scientifica e non sempre si riesce a cenare prima dell'evento mi dà fastidio mangiare perché poi vi faccio fatica a parlare dopo diventa troppo tardi magari anche uno spostamento e quindi arrivo a casa che non ho ancora cenato solo che dormire senza aver mangiato per me soprattutto dopo una serata così attiva mi disturba il sonno pertanto quando rientro a casa mangio ad esempio uno yogurt con un po' di proteine in polvere e musli d'avena quello che ti raccontavo prima del mio barattolone di vetro esatto cosa ne penso in generale allora se riusciamo a bilanciare tutti i nutrienti è una cena una coccola che ogni tanto ci possiamo concedere se ci va certo ovviamente ci perdiamo ad esempio tutto il bene delle verdure quindi le vitamine i polifenoli che portano con sé però non è male ripeto una tantum non tutti i giorni ok siamo arrivati quasi alla fine della puntata ma non possiamo chiudere senza fare riferimento alle due mode di cui parlavamo all'inizio più diffuse in tema di colazione allora la prima dobbiamo dire per forza qualcosa sull'acqua e limone fa bene fa davvero dimagrire mi sa di no buona risposta secca vai vai no no è uno dei tanti falsi miti che sentiamo sull'alimentazione tuttavia il succo di limone ha tanti altri benefici per esempio devi sapere che l'acido malico e l'acido citrico che contiene il succo di limone favoriscono ad esempio l'assorbimento del ferro contenuto in alcuni alimenti poi è anche ricco di limonene che è quella sostanza che dona ai limoni quel caratteristico profumo e una volta nell'organismo ha un effetto protettivo sulle nostre cellule diciamo così antiossidante come anche i polifenoli di cui è ricca la parte bianca della buccia non so se sei presente quella che si chiama albedo due consigli se volete bere il succo di limone il primo ricordatevi di usare sempre una cannuccia poiché alla lunga tende a rovinare lo smalto dei denti secondo consiglio se vogliamo usare la buccia ad esempio per le torte proprio perché è ricca di sostanze vantaggiose per il nostro organismo oppure altre preparazioni come ad esempio i muffin insomma tutte quelle preparazioni da cucina col profumo di limone il consiglio è di scegliere quelli bio o meglio quelli ovviamente non trattati ok vabbè insomma abbiamo scoperto che perlomeno acqua e limone la mattina non fa dimagrire ci fa tanto bene per altre cose se vogliamo ma non ci fa certo dimagrire e invece del famoso cucchiaio d'olio di cui abbiamo parlato anche in DJ Training Center tempo fa appena svegli ha qualche funzione? per chi non avesse seguito quella puntata anche qui voglio dirlo subito l'olio extravergine di oliva di giuno non fa dimagrire come suggeriscono alcuni articoli che stanno girando un po' sul web nell'ultimo periodo però concorre comunque a una buona forma fisica e i motivi che ti riassumo sono principalmente due innanzitutto i grassi assunti prima di un pasto favoriscono un miglior controllo della glicemia nelle ore che seguono stiamo già un po' imparando da questi podcast credo e poi secondo motivo agiscono sulla funzione epatica cioè del fegato spingendo appunto quest'organo a lavorare molto meglio proprio grazie a quest'ultimo meccanismo ci sono ulteriori benefici che si attivano un po' diciamo così a cascata come se fossero un domino il primo è una possibile riduzione dei livelli di colesterolo cosiddetto cattivo nel sangue ma ne parleremo quando faremo la puntata tutto sui grassi poi aiuta il fegato e la cistifellea ad eliminare le sostanze di scarto e così un po' a depurarsi quindi fa una specie di attività diciamo così detox per il nostro fegato aiuta poi per gli sportivi a ridurre il dolore al fianco destro quando l'olio extravergine di oliva è assunto prima di uno sforzo intenso sai che alcune volte gli sportivi magari in una corsa in un'attività molto intensa si fermano mettendo la mano sul fianco destro ma succedeva succedeva sempre anche a me non c'è bisogno di essere grandi sportivi anche a me succedeva ovviamente è una pratica che non so se uno sportivo amatore è disposto a fare già invece uno sportivo maggiormente di elite comunque che compete in gare come la maratona oppure il triathlon invece potrebbe essere una pratica che può prendere in considerazione se l'idea di consumarlo direttamente dal cucchiaio a digiuno non vi sconfiffera potete per la colazione versarlo su una fetta di pane tostata e aggiungere una fonte di proteine di alta qualità insomma è una delle colazioni che vi suggerivo prima a salate quindi una fetta di pane tostato con olio extravergine di oliva e sopra appunto possiamo mettere del fettato magro dell'albume d'uovo col cacao la cannella o dello yogurt greco insomma scegliamo noi poi la fonte di proteine ok quindi olio d'oliva al mattino mi sembra un bel sì extravergine mi raccomando oh scusami extravergine mi sembra un bel sì va bene allora siamo arrivate alla fine di questa puntata vogliamo trarre le nostre solite tre conclusioni no certo vai prima una colazione equilibrata deve contenere carboidrati proteine e grassi buoni le proteine in particolare sono cruciali per la sezietà e la lucidità mentale se ne raccomandano circa 10-15 grammi a colazione per le donne e circa 15-20 grammi per gli uomini ok seconda conclusione a colazione più che mai bisogna cercare di limitare il consumo di zuccheri aggiunti e preferire fonti integrali questo per mantenere più possibile stabile la glicemia e ridurre quella sensazione di fama nervosa che ci trasforma in belve fameliche in cerca di zuccheri 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 terza conclusione dedicata a chi salta la colazione piuttosto che bere un caffè a stomaco vuoto che comunque disturba in qualche modo la glicemia bevete un bel bicchiere d'acqua per integrare liquidi persi durante la notte grazie Ele io ho una fama incredibile quindi vado a fare una colazione adesso ci sta direi più che tema alla prossima ciao Buono Sapersi è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci con Viola Frifa riprese e montaggio Maurizio Rossato supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Danny Stucchi una produzione One Podcast Grazie a tutti Grazie a tutti